Andrea Biscaro in questo libro, Spettri del passato, parla di psicoscopia. Andrea Biscaro è uno scrittore saggista, è un documentarista, quindi non parla del mistero in maniera sensazionalistica, ma parla del mistero per affascinarci, lo parla in maniera documentata. Lui studia, legge, si informa, non copia e incolla e poi dopo uno studio certosino perché è meglio non averlo amico nel momento che scrive qualcosa perché non dico che ti tatti male ma non ti considera. Si impegna e fa questi capolavori dove in questo caso la psicoscopia, la retrocondizione, viene trattata come si deve, con dei documenti, con un'analisi perfetta, un affresco pennellato in maniera precisa, poi uno si fa le sue idee. Grazie a tutti.